salve a tutti e bentornati dal vostro boss 85 oggi inizieremo e inizierò un nuovo tipo di video chiamiamo una nuova tipo di serie di video dove esporrò i miei pensieri non più sulla politica non più sulla questione principalmente quelle che ho usato fino adesso ma mi esprimerò su altri tipi di pensieri concetti più profondi più come posso dire più particolari il primo diciamo di questi video tratterà un qualcosa di molto molto importante molto contemporaneo e legato soprattutto ai giovani come sapete io ormai vado per i 37 anni sono già in fila per i 40 praticamente e non sono più un giovanotto come quelli di un tempo io come sapete sono cresciuto coi nonni certo non nego avevo i miei genitori io sempre avuti ce li ho ancora tuttora perfetto ma loro verso sera pomeriggio tardi il resto della giornata scuola oppure tra una problematica di salute e l'altra ero sempre coi nonni i nonni materni quindi sono cresciuto con la loro mentalità la mentalità diciamo come dico io dei vecchi e di una volta oggi come oggi vedo che i valori i principi e la speranza l'ottimismo che i miei nonni mi hanno trasmesso mi hanno insegnato fin da bambino per come vedere il mondo nei giovani di oggi di questa epoca di queste generazioni degli ultimi 20 anni gli ultimi 15 20 anni è veramente cambiata in peggio non c'è più un valore non c'è più un principio etico e morale non c'è più disciplina non c'è più logica non c'è più razionalità non c'è più voglia perché io non vedo molti giovani vedo che non hanno voglia di imparare di fare ricerche di istruirsi alcuni lo fanno certo non posso negare che non ce ne siano ma sono pochi perché molti hanno perso hanno avuto la triste delusione il triste e doloroso morso della società moderna che anziché pensare a infondere ai ragazzi qualche valore anzi un valore ai giovani d'oggi ce l'hanno il valore dei soldi e basta ma tutti gli altri valori quelli che avevano anche i nostri nonni dopo guerra così non esistono più e sono stati distrutti volontariamente dai governi che si sono seguiti uno dopo l'altro negli ultimi anni dal 46 a oggi ma dire dal 46 oggi è un efomismo cioè una cosa un po così insomma non è neanche giusto dire dal 46 oggi è più secondo me giusto dire la parola dal 2000 in poi dagli anni 90 in su ecco più giusto così diciamo così fine anni 90 primi del 2000 quindi sì dal 2000 in poi siamo nel 2022 sì negli ultimi 20 anni dal 2000 in poi i nostri principi sono andati sciamando adesso voi io credo credo fermamente nella gioventù credo fermamente nel futuro dell'italia ma non vedo un futuro per gli italiani italiani non un anno futuro secondo me e col passare degli anni i nostri cari politici e cari ovviamente è una parola a doppio senso nel senso che tutto il contrario di quello che ho detto ha un valore significato diverso da quello che è realmente la parola dice se cari e per modo di dire ci sono stati insulti dietro che non posso dire ci staranno e ci smetteranno all'asta metteranno all'asta pezzo dopo pezzo l'italia se noi se i giovani d'oggi partendo da quelli del anche del 2010 per intendersi non fanno qualcosa di diverso di concreto per se stessi e per noi tutti quelli della mia generazione io sono dell'85 non li vedo gente della mia età gente della mia personale del mio personale stampo fare qualcosa di materialmente attivo ok ci vuole altro ci vuole qualcosa di più forte e quel forte non lo posso dare io non lo può dare nessuno io lo posso dare tramite i miei video ma se nessuno mi ascolta nessuno commenta nessuno fa girare questi video io non posso fare sentire la mia voce che è il pensiero secondo il mio punto di vista di tanti italiani di tante persone più o meno sono giovani di me o più o meno mature di me io non chiedo la luna ma visto che tra un po forse divento anche a papà tra qualche tempo un annetto un annetto e mezzo io mi preoccupo in che mondo metto e metterò i miei figli perché nelle condizioni più ottimali si può pensare di fare qualcosa di buono ma come ripeto non è quelli della mia generazione quelli diciamo fuori dalle istituzioni scolastiche che possono fare qualcosa chi può fare qualcosa ripeto sono coloro che sono i giovanissimi già tra i banchi di scuola bisogna imparare a fare qualcosa per il nostro paese tra i banchi di scuola io quando andavo a scuola ho avuto sempre un ottimo rapporto di diciamo amore e odio di scontro di discussione aperto proprio apertissimo di mentalità molto aperta con i miei docenti di italiano e storia che 90 cento volte su cento il professore di italiano fa anche storia fa geografia quindi principalmente sempre quel docente e personalmente abbiamo sempre delle discussioni di tipo comizio politico per intenderci dove si discuteva amichevolmente con massimo rispetto non perché lui fosse il mio docente io fossi lo studente non me ne poteva fregar di meno più che altro era un tentativo di non imposizione ma di espressione libera del mio pensiero in base alle mie esperienze con un docente con una persona più matura di me più preparata e con delle idee molto più chiare delle mie queste queste discussioni sono sempre state molto molto tranquille e mi hanno arricchito tantissimo perché mi hanno permesso di colmare le mie lacune dei miei pensieri basate sulla mia inesperienza e ignoranza in materia in studio quant'altro ovvio e imparare sempre di più nei miei errori e cercare di evitare di fare degli errori per migliorarmi giorno dopo giorno e fare qualcosa sempre di meglio ma avendo la predisposizione della nascita ad aiutare sempre il prossimo che se non lo conosco e si può fare in tanti modi io posso aiutare il prossimo come ho fatto anche per anni facendo ambulanza oppure anche insegnando o insomma in tante attività tanti modi l'unica cosa che io chiedo è che i genitori che vedranno questo video non se ne freghino dell'educazione dei figli anzi che li stiano non come una campana di vetro addosso ma vicini accanto dietro ma qui vicino alle loro spalle per stargli accanto e quando stanno avendo dei dubbi o hanno delle perplessità o cercano delle risposte cercano ricerca comprensione ampia la mente far parte di un gruppo di persone che la pensano come te come noi permette anche un rapporto e un confronto di menti di menti maggiore e ti apre dai confini che la società ti impone un piccolo aneddoto che voglio farvi voglio dirvi per farvi capire su quello che è il mio pensiero libero è questo che è molto pericoloso per una società consumistica barra quasi dittatoriale per modo di dire usano un termine molto forte dittatoriale perché comunque ci sono delle regole troppo rigide quindi sembra quasi una dittatura e questo è il mio tipico di esempio comunque tornando all'esempio l'aneddoto è è peggio una mente libera una mente pensante di un uomo che agisce materialmente su un'azione perché? perché io posso agire su un'azione, la compio rimedio il problema e chiuso il finito discorso lì però tutti gli altre cose che ci stanno attorno io non ci guardo perché l'azione la faccio fisicamente su quel momento su quella situazione e basta una mente pensante libera dagli schemi libera dalle dalle diciamo dagli dagli schermi che ti impongono un tipo di pensiero loro della società che cerca di occludere chiudere la mente dei giovani è pericolosissima per quello che si dice sempre giovani leggete imponetevi se avete fatto fatica fate fatica ci sarà sempre qualcuno da bene ma faticare è importante perché faticando capisci dove stai sbagliando e ti correggi da solo è la cosa più importante quindi leggere ma non leggere dei libri del cavolo non vedere magari anche dei film al cinema del cavolo cose che abbiano una morale una logica la scienza che tanta gente critica eh scienza è uguale regole qua e là no la scienza è stata creata da gente con mente libera non chiusa dalle regole non anarchici ma pensiero libero segue delle direttive ovvio le devi seguire delle direttive però devi spaziare nello spazio e nel tempo e in più informandoti nessuno può controllare una persona che non è ignorante il popolo se indenuto in ignoranza sarà sempre comandato da coloro che sono considerati i capi politici lavorativi aziendali dovunque la conoscenza è potere la conoscenza genera idee l'idea genera un aiuto di base di una mente aperta libera e non condizionata questo è importante i giovani d'oggi devono imparare a fare questo studiare le nostre radici è importantissimo storia italiana geografia scienze fisica astrologia tutte queste cose qua è importante conoscere quello che c'è attorno a noi tutto e non basta una vita per farlo ovviamente però bisogna anche crescere dicendo una cosa sola ok studiare ok avere la mente libera ok tutto ma prima di imparare a diventare delle persone con la mente aperta e tutto bisogna imparare una cosa sola a diventare uomini e donne con valori pensiero educazione perché con queste tre cose dopo la mente si apre e si è liberi da ogni turbamento da ogni obbligo da ogni imposizione e nessuno più va a comandare allora questo che io chiedo oggi in questo video coltivate i giovani d'oggi perché sono il nostro futuro e perché loro hanno in mano le chiavi della libertà di pensiero la vera cultura è questa adesso e i valori quelli di una volta riaffioreranno bisogna solamente andare a scavare laddove adesso c'è tanta terra sepolta questo un bacione a tutti e alla prossima ciao